Se si insegnasse la bellezza alla gente, si fornirebbe di un'arma contro la paura, l'omertà, all'esistenza di orrendi palazzi, ci si abitua. Ogni cosa pare che debba essere così da sempre e per sempre. Insegniamo la bellezza alla gente. Così non avremo più abitudine, rassegnazione, ma sempre vivi curiosità, stupore.